Nonostante la notizia di imminenti interventi nelle strade del Cilento, con l'avvio di lavori di manutenzione e messa in sicurezza della rete viaria su tutto il territorio provinciale, a Castellabate siamo ancora in attesa dei lavori di messa in sicurezza per la strada provinciale 61 e la segnalazione del sindaco Costabile Spinelli che, dopo aver più volte espresso il disagio per le precarie condizioni in cui versa la SP61, ha inviato una lettera indirizzata al neoeletto presidente della provincia Michele Strianese, richiedendo all'ente provinciale il completamento della procedura essenziale per l'inizio dell'intervento di messa in sicurezza. Ribadiamo che si tratta di un'arteria di primaria importanza per il comune di Castellabate, che collega Santa Maria con il centro storico e conduce all'isola ecologica e al depuratore comunale e che tale intervento, rifinanziato dalla Regione Campania con decreto dirigenziale del 3-10-2016, manca dell'indizione della gara dal palto, spiega il sindaco Costabile Spinelli. L'auspicio è che l'amministrazione provinciale inserisca tra le priorità l'intervento, ponendo fine a un'attesa non giustificabile.